Cosa ha fatto l'Europa e cosa invece avrebbe dovuto fare secondo lei che ha preso a cuore questo problema, appunto quello dei migranti a Lampedusa? Beh, in questo momento l'Europa sta commettendo un peccato gravissimo che è quello di non riconoscere che c'è una grande emergenza umanitaria e che quindi qui e ora c'è bisogno di dare una risposta di accoglienza. In generale l'Europa ha peccato di miopia, di ritardi, di poca lungimiranza perché quello che sta accadendo si sapeva che le migrazioni peggioreranno anche sotto l'incarzare dei cambiamenti climatici che diventeranno un elemento, una concausa di guerre e di povertà sono eventi del tutto prevedibili e rispetto a questo aspetto non ha avuto politiche lungimiranti né a casa loro né a casa nostra. Avete avuto un calo invece nel turismo, noi abbiamo cercato di far vedere una Lampedusa viva, una Lampedusa bellissima dove il problema dei migranti c'è ma per i turisti fondamentalmente non si vede. Probabilmente Lampedusa è diventata scomoda per Bruxelles proprio per questo perché dimostra che di accoglienza non si muore, che è un'isola che pur essendo stata lasciata sola per 15, quasi 20 anni ha dato una risposta grande, ha fatto un'impresa grande senza morire e con le presenze turistiche che sono aumentate. Vorrei che ci fosse meno retorica quando si parla dei Lampedusani, io prenderei un valdostano, lo porterei a Lampedusa durante uno sbarco e questo è l'esperimento che secondo me toglierebbe tutti i dubbi, vorrei vedere che cosa fa, ma vorrei anche sfidare la destra estrema italiana ed europea. Se fosse possibile per 15 giorni gli darei in mano Lampedusa per vedere come si chiude il mare, per vedere con quale coraggio e con quale faccia tosta possono ributtare in acqua bambini, donne incinte, ma anche quelli che tuttora vengono definiti migranti economici. Quando arrivano a Lampedusa sono naufraghi e sono anche loro vittime di tratta di esseri umani. Qual è la soluzione a questo problema? Le soluzioni sono diverse, ma la cosa che sono diverse, molte sono a lungo termine, perché va completamente cambiato l'approccio ai modelli di sviluppo e alle politiche di pace o di guerra che l'Europa, ma in generale l'Occidente ha avuto verso l'Africa, verso il Medio Oriente. Ma questo non deve diventare un alibi per dire che oggi non possiamo fare niente o che oggi è tutto difficile. Oggi sono poche migliaia le persone che spingono, che lasciamo fuori il filo spinato lungo la rotta dei Balcani e non ci crede nessuno che un continente di 400 milioni di abitanti non può accogliere 15.000 fermi ai domini. Non ci crede nessuno. In un momento storico come questo, in cui l'Europa sta mostrando il suo volto peggiore, credo che sia importantissimo che siano i giovani, la cultura, l'università, l'arte, a spingere le politiche a diventare più umane, più giuste. L'Europa ha delegato ai luoghi di frontiera, ha condannato i luoghi più belli che si affacciano sul Mediterraneo a un destino di frontiera e ha delegato, poi in generale sono piccoli territori come Lampedusa, come le isole, come l'Esbos in questo momento e dunque bisogna lavorare per rilanciare una nuova, oserei dire un'antica idea di Mediterraneo. Chi ne come ricorda quel giorno terribile, quello della strage? Mi torna spesso in mente come incubo perché non glielo auguro a nessuno e sicuramente è l'unica cosa che non avrei voluto vivere da sindaco.